Nuovi colori, nuovi volti, nuove emozioni. Finalmente si è alzato il sipario sulla 42esima edizione del Giffoni Film Festival. Già a partire da ieri mattina Giffoni Vale Piane è stato invaso da 3.300 giurati provenienti da tutto il mondo. Numerosi giornalisti accreditati, autografi e tanti scatti da incorniciare per i visitatori. A rubare subito la scena l'attrice hollywoodiana Jessica Alba, che sorridente ed emozionata, ha incontrato i giurati nella sala truffo della cittadella del cinema. La sua vita, la sua carriera, le sue passioni e le sue paure. L'attrice, senza timore, ha risposto alle curiose domande dei giurati. E a chi le ha chiesto la sua visione e della felicità ha risposto, credo di non pensare al futuro, di essere felice nel quotidiano. Mi godo la felicità quando mi si presenta. Ma a dare il via alla 42esima edizione del Giffoni Experience è stata la madrina storica del Festival Giffonese, ovvero Mara Venier, per molti anni presentatrice ufficiale della Kermesse. Mara Venier torna al Giffoni Film Festival, possiamo definirla una veterana o è sempre un'emozione nuova? No, sono una veterana perché ritornare qua è un ritorno comunque molto emozionante. Però non sono a sue fatte, insomma, io quando sono arrivata qua intanto già in macchina ho detto ma questo non c'era, quell'altro non c'era. Perché vent'anni fa qui era davvero, era tutta campagna, insomma, cominciavamo un po' tutti, no? Per cui sì, è un'altra Giffoni, vedo anche queste strutture, giornalisti, fotografi, telecamere, insomma, allora eravamo un gruppo di disgraziati, insomma, no? Che cercava di fare però al meglio tutto il nostro lavoro e soprattutto con amore, questo sì. E questo credo che ancora ci sia. L'ho detto, chi è qua ha una marcia in più. Quindi Giffoni può essere una speranza per i giovani di oggi? Assolutamente sì, questo è un festival importantissimo, è un festival conosciuto in tutto il mondo, cioè a New York parlano di questo festival, a Los Angeles parlano di questo festival. Vitosi è riuscito a fare un'impresa, non ci avrebbe creduto e sperato nessuno, è un festival importantissimo. Nel mondo del cinema è molto apprezzato, stimato, cioè, questo è vero, è una cosa molto importante per il nostro paese, per l'Italia, bisognerebbe forse parlarne di più, non soltanto durante il periodo del festival, bisognerebbe anche proprio parlarne sempre. Ma il GFF 2012 non è solo red carpet, per le strade di Giffoni, i gigli felici di Nola, che tra tradizione e musica hanno entusiasmato i tanti curiosi accorsi per il caratteristico evento. Ogni giglio è alto almeno 21 metri, pesa 40 quintali, trasportati a spalla da 120 persone. Tanti gli abitanti di Nola giunti nel comune epicentino, in primis il sindaco, Geremia Biancardi. Anche oggi sono tanti gli appuntamenti in programma, l'arrivo a Giffoni del duo comico Ale e Franz, che incontreranno sia i piccoli giurati che i ragazzi della sezione masterclass. Ed ancora l'anteprima in 3D di Madagascar, tre ricercati in Europa. Intanto è partito il conto alla rovescia per la sedicesima edizione del Neapolis Festival. Ad inaugurare la manifestazione questa sera sarà Pino Daniele, già da settimane si registra il tutto esaurito. Grazie per la visione!